Nel parco del canto della rana a Stia e dunque in alto casentino il taglio del nastro per la ciclopista dell'Arno, una delle più grandi della Toscana. Il tratto cosiddetto della sorgente, altamente simbolico e di grande bellezza paesaggistica, è lungo 16 chilometri e collega appunto Stia al canto della rana, alla zona industriale di Castella e San Nicolò, tra Ponte a Poppi e Bibiena, dove poi si congiunge al tratto già realizzato. Si tratta quindi di una delle più belle ciclovie d'Europa perché darà l'opportunità di entrare in contatto e di gustare valori ambientali straordinari, valori di carattere paesaggistico ma anche storico-culturale, basti pensare che saranno attraversati i centri storici di Firenze e di Pisa. Toccherà circa 40 stazioni ferroviarie, quindi la possibilità di integrazione modale con il treno. Credo che in questo modo la regione sia veramente più matura dal punto di vista infrastrutturale per puntare allo sviluppo del cicloturismo. Una modalità di turismo che è in forte crescita perché negli ultimi 5 anni è cresciuta del 41%. Il 54% del sistema integrato della ciclovia dell'Arno con il sentiero della Bonifica è già percorribile in completa sicurezza. Il restante 46% è in progettazione. Nel corso del 2019-2020 è prevista la partenza dei lavori per il completamento del tratto in Casentino e nel Valdarno-Aretino che porterà fino a Ponte Buriano. Grazie. 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 Grazie.